Buongiorno, sono Stefano De Mitri della Remax Stella Polare. Oggi ci troviamo tra Via Crispi e Via Brigata, una delle zone più dense e servite della città di Bari. Vi aspetto per mostrarvi questo divani completamente ristrutturato tra pari e loro. Siamo in questo meraviglioso divani completamente ristrutturato, pari al nuovo. Abbiamo infissi in vetrocamera, porta blindata, persiane nuove, zanzaliere. Il bagno con i sanitari sospesi, doccia, led contro soffitti e luce di emergenza. Bene, avete visto questo meraviglioso appartamento? È un immobile completamente ristrutturato, quindi adesso non vi resta che contattarvi. Vi aspetto. Grazie. Grazie.